Ciao a tutti, in questo video faremo una piccola Sailor Moon in pasta polimerica mostrando il modo in cui inserisco il filo di acciaio su gambe e capelli. Come sempre spero che vi possa essere utile. Buona visione! Prima di tutto taglio e piego il filo di acciaio per il busto e poi due piccoli pezzi per le gambe. Rivesto la struttura delle gambe prima con il color carne. E poi vado a preparare gli stivali Grazie per la visione! 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 Precuociamo il tutto! Precuociamo il tutto! Grazie per la visione! Grazie per la visione! E ora possiamo completare la creazione! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!